Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio e buonanotte a tutti gli amici di Odello, Zodifootball, link, gruppo Facebook, link nelle mie info. Giovedì ragazzi, ieri era mercoledì, non ho registrato ragazzi, volevo registrare, ma non voglio pensare a quello che è successo ieri, niente, vabbè, il riciclo dei ricicli, tranne Low e Owen, praticamente niente, non mi andava a registrare, mi faceva schifo tutto ragazzi, dici che oggi c'è l'aggiornamento 3.5.1, 3.5.1, io non ho visto nessun aggiornamento, vabbè, allora, andiamo a prenderci tutto, prima di tutto andiamo qua e ci prendiamo anche quest'altro, ovviamente ripartiamo dalla divisione 5, quindi restentiamo tutto, ragazzi, minchia, stanno già in divisione 1, questo è italiano, ma ok, sperando che questa volta sia la volta buona, alle 87, non mi ricordo se l'abbiamo mai beccato, vediamo il nostro bruciato, non sta giocando neanche lui, perfetto, tutti divisione 2, divisione 4, divisione 5, divisione 7, 8, 9, 10, 11, 12, allora, ragazzi non vi faccio vedere anche le challenge offline, online, tranne questo che, no, questo per la coda al buio, ragazzi, mi scassi i coglioni, non li sto facendo più, cioè neanche quelli online, niente, perché mi stufa tutto, ragazzi, mi stufa tutto, mi stufa tutto, abilità, posizioni, cazzi e mazzi, vaffanculo la tua madre, allora, ovviamente avranno messo le missioni, quelle nuove, gli obiettivi, io neanche quelle scorse ho fatto, sono sincero, ragazzi, per rompa club, vedete, stanno ancora qua, non ho fatto niente, mi stufa, mi stufa, mi rompo, mi rompo, ragazzi, hanno messo il match pass nuovo, ragazzi, ah, scontato, quindi ho visto quello un po' sbirciato, danno l'ennesimo di AB, questo fa tutti i ruoli, l'ennesimo di AB, taglia al centro, però, e saliva, che non può fare questa protezione difensiva, vabbè, ragazzi, è scontato, facciamo una cosa, non ci stiamo a prendere in giro, tanto le monete le rifacciamo, è un bel pezzo, non li prendo, e ci prendiamo anche questo, ok, le monete spese 7,50, ne recuperiamo sicuramente 500, allora, e ci prendiamo un po' di contratti mirati, poi, tirami rigoro, drogba segna, drogba, non me lo rimettono più, ragazzi, se segniamo, no, anche se segniamo il posto, non facciamo un cazzo, allora, tanto, quello che interessa a voi, ragazzi, non so io quali sono, allora, a seguire l'elenco, vabbè, 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 prendiamoci tutto, ok, di ab, l'ennesimo, saliva, l'ennesimo, ok, 71.000, 71.000, quando, 71.000, di quando scadono? Fra 52 giorni, quindi, sto tranquillo, vorremmo messo qualcuno nuovo, ah, non disponibile, magliette, ma vabbè, te l'affanculo, vai, ma vai a cacare, Konami, vai, ma vai a cacare, vai, pacchetti, pacchettini, qualche allenatore controattacco? Ma no, Konami, ma porca troia, oh, ma perché Ancelotti che vince i campionati? Cioè, perché no? Cioè, io mi spiego, io vorrei scrivi perché no, lista allenatore, cioè, ordina, controattacco. Questo è ancora 85, non lo puoi aumentare, Konami, ma non me ne fotte di lui, tu mi devi, no, dove vado? Che cazzo è allora? Passaggio lungo? No, forse so fare. Questo è 88, questo è 85. Ah, 80! Ma siete ridicoli, dai! Siete ridicoli! Questo è 85, quindi se lo guardi io... Se tu lo vuoi prendere qua, Xavi Alonso non c'è ragazzi, vergognoso. Prendiamo, vediamo, prezzo. Allora, tucche. Cioè sta ancora questo qua. Non c'è, non c'è Xavi Alonso, ragazzi. Vabbè, ragazzi, non mettono un cazzo contro l'attacco. Allora, vabbè, ragazzi, noi ce l'abbiamo, vera è cosa? Credo, eh. 88, 85, 87, Zetler, vuoi 85, ragazzi. Questo 87, possesso palla. Questo è quello del Bayern Monaco, 88. E questo è l'85. C'ho quelli un po' più forti. Allora, divisi avevamo un po' tutti. Vabbè, stiamo parlando di aggiungere, cambieremo, ragazzi. Anche questa è quella, siamo uguali. Allora, sì. Ordina, gestione generale, filtro, così li vediamo, ragazzi. Ok. No, tu. Stai tutti contata che... Perché ce l'ho? Ma è la stessa via? Mi sta venendo i dubbi. Sì. Anche se... Anche se... Questa non lo voglio riprovare, ragazzi. Mi sta venendo scheribicchio. Questa è questa, Gimberto Silva. No. Ah, sì. Ecco qua. Ok. Allora, poi... Io c'ho questo. La pace d'aria. Allora, ragazzi, ho messo l'onipresente... No, opportunista. Onipresente. No, opportunista. No, no. Vabbè, qua ci danno i giri gratis. Hanno messo questi, ragazzi. Potete fare tre giri più il giro contro Co. Ragazzi, non ci prendiamo in giro. Ci prendiamo in giro. Io provo... Facciamo tre giri per prendere Holland, che è opportunista. Sarà la cacata. Spero sia diverso da quell'altro. Ma proviamo a vedere com'è. Poi... Il resto... C'è Tiago Silva. Non mi interessa. C'è Portu? Portu. Vabbè. Poi hanno messo i contratti mirati. Che ne abbiamo? Due da 5 stelle. Quattro da 4 stelle. Fino a quando non facciamo quegli altri. E Nessimo Turco. Ma porca troia. Ma non metto quel terzio a sinistra che a me piacerebbe avere. C'è Zaa. Che può fare pure la punta. C'è Ngulamabte. Collante. Vabbè. Maximovic. Ma questo è ex Torino. No. Non lo so. Vabbè. C'è Davide Treseghe ragazzi. Poi. Ennesimo. Non lo so. Giapponese qua. Ma porca troia. Ne ho tanti raga. Ne ho tanti. Ne ho tanti raga. Basta. Prendiamo un terzino a destra. Prendiamo un 3 stelle. 3 stelle turco. Vai. Questo non. Sono già pompati raga. Prendiamo Gulamabte. Poi. 31 maggio. Poi ne ho messo raga. Eccoli qua. L'ennesimo contratto minato di Rudiger. Chesni. Allora ragazzi. Io Chesni. Lo prendo. Portia della Juve. Non posso farne a meno di lui. E lo blocco. E lo blocco. Poi ho attorno le 96. Lettera B. E poi lo pompiamo. E lo portiamo subito oggi. Poi ragazzi. L'ho messo sto Rudiger. Prendiamo. Perché gli altri fanno caccare. E blocchiamo. Lettera C. Non gioca. Ma poi ho visto un'altra cosa. Cioè porto pure qua. Qua è trequartista. Giocatore chiave. Trequartista. Giocatore chiave. Quattro stelle. Trequartista. Giocatore chiave. Quattro stelle. Poi qua si stavano. Questo cos'era? La pace dai. Trequartista. L'ho messo un noto del turco qua. No no. Che è? E' scemo. Ma come si fa di nuovo? Un noto del turco qua. Trequartista. Giocatore. E qua l'ho messo. CLD. Giocatore chiave. Ed è più veloce. Bustato. E veniamo questo bustato. Su. Più tre. Controllo palla. Finalizzazione. Potenza. Tiro. Contatto. Beh ragazzi facciamo i tre giri. Poi al massimo. Se no lo becchiamo. Facciamo quello contro la com. Ma lo sculeremo mai ragazzi. Mai. Paoligno. Chi cazzo è questo? Trequartista Paoligno. Ma la manga da bloc. Ma è ancora. Una volta Holland. Ma lo vuoi dare? Chi è? Di nuovo si muove. Konami. Mi fa fare quello contro. Ma porca troia. Niente. Luis Alex. Ma porca è io. 36 anni. non ho la parola neanche l'ho bustato oggi meglio così due giri buttate al cesso e al posto ragazzi abbiamo finito allora questa volta facciamo una cosa possiamo fare sì due partite allora vediamo le letterine prima allora questo è il salibacchioio ragazzi che secondo me è più forte di quello che hanno messo oggi però ordine batti l'ingaggio blocchiano su arte in San Mario bloc e riserva di lusso col K scesti guarda il primo eredità progresso rimbalzi in tentata da casa eredità progresso c'ho ste cacate che io come cazzo mi venne ragazzi come cazzo mi venne doppio tocco vai consumiamo i GP poi li farei un concano eredità progresso controllo di suono eredità progresso tagli e spalle al giro vai come cazzo avevo spesso meno di GP a cazzo eredità progresso vediamo no c'è la buffola grazie a tutti ieri Ma c'è una trattura bassa? La merda! La merda! Col cazzo me lo davo un portiere buono! Si solamente! Almeno così! Il 78 è rimasto recitare, non si è mosso di una virgola! Porca troia! Una merda! Saliva! Blocca! Aumenta di livello! Facciamo esitare progressi! Un po' comunque è scaduto! Non cazzo! Rudi che è! Tio di primo, svolta secco, passaggio di primo, cross, calbiato, pallonetti, minato... Ma che cazzo gli ho dato a questo lì? Non c'ho dato un muro, non c'ho dato un cazzo! Sono pazzo di ora! Questa lì va a vantarsi lì! E' una merda! Poi lo confrontiamo! Questo non da sì! Questo non l'ho bloccato! Blocca! Il booster! Non è massimo! Minamino! De Roma! Davids che non ce l'ho bloccato! Grande minchiata! Blocca! Ok! Allora, ordina, ordina Altro generale Allora, ragazzi Questa è saliva 84 velocità però 93, 95, 91, 93 87 velocità Minchia, questa è più veloce 90, 91, 89, 89 90, 90 Contatto fisco 87 Boh, vabbè Poi E che è, le trabbi di nuovo Oh, sta là Minchia, non può fare la punta Poi, un'è, 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 si no, si no Ma Holland Guardiò, la lettera Ui, la madonna Ui, la madonna Ui, la madonna, roberto Rice Oh, lettera A E questo gioca Camavinga Messi, no, lettera Ma porca troia questo Questa è la merda Questo butele in eccesso Proprio Ma questo Ue, ue Letta B Manneggia Sacca quanti cazzo ne ho Allora C'è da divertirsi, ragazzi Allora E se facciamo così Cosa mia 60 giocatori 60 giocatori Minchia Bellingham Madonna Minchia Di mani sempre letta A Oh Allora Siccome siamo in divisione 5 Io voglio cambiare Cioè come stanno Stanno pure bene tutti Scommetti Tranne quello Voglio cambiare Facciamo così Facciamo così Cambia formazione Devo cambiare, ragazzi Devo cambiare Assolutamente Giochiamo così Poi Allora Poi Calma, raga Calma Calma Faccio vedere cosa intendo Facciamo Lettera solamente Lettera solamente Mi gioca Mettiamo qua La mettiamo qua Poi Tutti lettera Devono giocare Questo Un attimo Mo sistemiamo Qua 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 Cele di Chi cazzo Facciamo Posizioni Minchia Ed è magia Ma porca Troia Questo c'è Il più 3 Mettere Man Nacchala Muerto De Mammat che ti pareva io vabbè vediamo via anche CLD ma sono tutto mangi 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 c'è l'edito mangi mangi Kudus mangi di Maria mangi duco destra duco fa il destra ma che figlio di puttana lo mettiamo luna oi quanti suori ho qua c'ha 36 anni e qua c'ha c'è l'edito 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 un'edito Grazie. Santa pazienza, quanti cazzo ne ho così, non si capisce niente. No. Allora. Posiziono. Posiziono. Confondiamo con la saliva. Che noto l'occhio. Ok. Bello. 100 con 101. Più 5 passaggio al più. Più 4 velocità. Più meno 2 velocità. Basti, mettiamo. Più più più第. Più più tanti. Più più tanti. Più più di a professionale. Più più più. Più più niente. Più più. Più più. Più più più. io lo metto chi se ne frega è scilato l'anno titolarissimo 87, 86, 82 88, 82, 82 84, 90 87, 90 vabbè get to the lettera porca troia questo me lo porto ok uno che corre là vediamo chi possiamo mettere CLD porto 2 non ne ho fatto giusto è un po' di pazienza allora messi un po' ci puro affamela vabbè la scena diciamo così qua mettiamo lui qua mettiamo lui non vuole portare i soldi mi rompo i coglioni possiamo andare così dai ma non è ma dai dai vabbè c'è l'è la raga dai e allora e allora li voglio far giocare loro mettiamo lui allora devi fare così così sarà lui qui sta pure questo qua vabbè devi fare un più di uno guardare guarda ok andiamo così dai catica secondaria ovviamente no facciamo così individual difensivo nessuno mi interessa mettiamo a basso lori contropiede vola a saltare guardi guarda lui e lui rigorista lui destra lui sinistra dai proviamo l'agra intanto c'è che fare l'agra sempre quattro tac sempre sempre a tuo fianco 2300 salano che cazzo ragazzi cerchiamo di arrivare il prima possibile in D4 no questa maglietta vabbè i numeri poi come sta Danilo diciamo e diciamo a vabbè a Grazie. Proviamo. Non riuscivo più a giocare, ragazzi. Bisca prendo il gol. Attacchiamo. Chi se ne frega. A saltare. Neanche a pagarlo noi, eh? Prima gol. Beh, beh, beh. Posso andare insieme a tutti i quarti? Sto sbagliato. Sbagliato io. Va beh. Devo lasciare la squadra con me. Guardate lì. Corre quanto sa cala, già. Ma guarda qui. Non ha corso. Ma che è? Ma do' qui? Mancino, eh? No, più di destra. Numero 7 o no. Perfetto. Ma boh. Ehi. Madonna mia, Santa Benedetta, aiutami tu. Non salta. Sacca, che sta a fare là? Ma boh. Ma boh. Ma boh. Sì, ma boh. Alice, Ali Mortacci, tu e di tu non, ovvio mamma mia, madonna me, questo c'è quello bustato, ma come cazzo si fa a essere così il culio e di tu non, ovvio e di tu non ma io neanche con le cose laterali qua io non riesco più a giocare cioè io stoppi la palla, va lui ma perché raga non c'è un terzo della lettera, raga, incredibile mamma mia, che schifo, raga, è rimasto uguale il tempo, raga, si sapeva che non sarebbe cambiato nulla, nulla, raga, io devo fare bene un altro mese, raga, ma non esiste proprio ma quanto ci mette un? ma quanto ci mette a dare la falla? guardate qua, dove va? ma no docu bocciato allora, non mi piace proprio ci mette a dare la falla? ma non ce le di, non ho nessuno 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 ce le di forte, come è cadua, basta parla, ma guarda quello! che attacca e defense, special team cross mamma mia, ma guarda, quel già è morto, è morto già guarda quei due ma sa cazzo che sta a fare la ragazza, ma me lo spiegate questo Goku, lo buttiamo al cesso ma che cazzo sono ma te lo fa un culo ma questo c'è, ma io che cazzo e me ce l'è due e io, perché un Tadano? scusate non ce l'ha mai quanto sono coglione quanto sono coglione questo non ce l'ha e questo non ce l'ha sono un coglione sì, sì, sono un coglione grazie a tutti grazie a tutti ma ragazzi, è assurdo non poter fare un passaggio decente grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti non mi va di parlare non mi va proprio ragazzi sacca la merda di giocatore come non è scusa non ti provo a fenda la merda di giocatore non fa testa un avversario del genere guarda non la prendo la pancia ragazzi il gameplay fa schifo ma io l'ho dato a Holland ma guardate ragazzi si blocca si frizzano guardiole è morto è morto con il 1 vabbè ok niente ok niente faccio la nesta e tu la lunedì e andiamo a mettere di squadra che schifo che schifo di gameplay mamma mia questo che mi vuole sempre una cosa incredibile ma Maradona ha giocato oggi ok che cazzo devi commentare ma che cosa vuoi che commenti vabbè ma che cazzo il numero 19 change le Grazie. Grazie. Non va bene sto modo. Non va bene sto modo. Dobbiamo rifare tutto. Non va bene. Non va bene. Non va bene. Non va niente bene. Non va bene. Vado a lui la parla. Mi rendete conto. E' una cosa incredibile. Da 4 a 2 per me ragazzi. Da 4 a 2 per me. Che cazzo le devo dire ragazzi. Io non... Io non so cosa dirvi ragazzi. Qua necessità di moduli o chiacchiere ragazzi. Da 4 a 2 per me la vanno. Vabbè. Vabbè. Vabbè.